Si chiama l'Inghiltero con il regno delle due Sicilie, è pieno di documenti di riferimento all'Inghiltero. Poi c'è un tradotto dal tedesco, un diario di un capo pregante, che parte in modo cosiddetto pregandaccio, e lui ha scritto questo diario, è l'unica opera di questo argomento visto dall'interno, tutto l'altro è scusato all'esterno, questa è l'unica che lo descriva all'interno, che Benedetto Croce tradusse molto, molto parzialmente, solo le cose interessate a lui, a fine degli anni 40. Poi ho tradotto la biografia dell'ultima regione di Napoli, questa potrebbe essere, per esempio, una lezione del saggio, magari la sua figlia.